Ricordaci quali sono i benefici del movimento e i rischi connessi al non muoverci a sufficienza perché credo che ci possa dare una motivazione notevole per riuscire a trovare la forza di sollevarci dal divano e cominciare a dedicarci con un pochino più di attenzione a questa componente della nostra vita, cioè il movimento. Sì, ne parlerò a breve. Prima però voglio darvi una panoramica generale in termini di sistemi perché il movimento fa parte, è un sottosistema, del vostro corpo. Come lo è il mangiare sano, il dormire bene, il prendersi delle pause durante il giorno. Fa tutto parte dell'insieme. Per questo è bene capire quali sono i tipi di movimento più efficaci da fare, ma è altrettanto importante capire che se ti concentri solo sul movimento, non andrai a generare quel benessere a lungo termine di cui abbiamo bisogno. Lo so che tutti possiamo comprenderlo a livello cognitivo, ma ci tengo a spiegarlo in modo visivo perché sia chiaro che il movimento è solo un elemento e potete scegliere di iniziare col movimento se questo è ciò che sentite essere veramente importante per voi ora. La cosa importante da notare è che in questo caso ci vuole la volontà di muoversi, di allenarsi, giusto? Questo prima di tutto. Altrimenti potrebbe avere senso partire da altri aspetti per migliorare la tua salute, ad esempio dal mangiare meglio, così appena vi sentirete meglio avrete più energia e naturalmente più voglia di muovervi, di fare attività. Diciamo però che ai fini di questa conversazione vogliamo iniziare col movimento e di questo andremo a parlare. Dividerò il movimento in più tipologie che dobbiamo considerare, non si tratta solo di fare esercizio. L'importanza del movimento è, beh, molti penseranno che allenarsi sia un modo per perdere peso e invece, al contrario di ciò che si crede, l'esercizio fisico è solo una piccola parte del perdere peso. Se per perdere peso infatti conti solo su questo scoprirai presto che non funziona. Fare esercizio è più importante per... Prima di chiarire perché fare esercizio è così importante di per sé, voglio ribadire il fatto che siccome il movimento e l'esercizio sono solo uno dei sottinsiemi della nostra salute e del nostro benessere, è importante capire che per prendersi a pieno cura di noi stessi non basta concentrarsi sul movimento, ok? Infatti è altrettanto importante aver cura di ciò che si mangia, mangiare bene, così il movimento sarà molto più efficace. Se dunque fai esercizio ma non riesci ad ottenere i risultati che vorresti, forse dovresti prima sistemare la tua nutrizione. Perché quando si ha più energia e ci si sente meglio dentro, si ha più voglia di fare più esercizio, più voglia di uscire e magari fare sport, di muoversi di più. Quindi è importante capire appieno che niente nel proprio corpo funziona in maniera isolata, che ogni cosa che uno fa, salutare o dannosa che sia, ha un effetto su qualcos'altro nel corpo. E occorre imparare a fare attenzione a tutte queste interazioni perché questo è l'unico modo per rimanere in controllo, d'accordo? Ma senza scoraggiarsi se le cose non vanno subito come vorremmo. E riguardo al perché far movimento è importante, molti sanno, o almeno pensano, che fare esercizio aiuti soprattutto a perdere peso. Questo però non è vero. Infatti, come ho accennato prima, è molto meglio mangiare bene, se si vuole perdere peso, se è questo ciò che ci interessa di più. Ma se uno sente anche solo che vorrebbe muoversi di più e da tempo vorrebbe crearsi una routine di movimento da mantenere, beh, qui troverete tutto quello che vi serve, perché vi introdurrò i tre step del mio metodo bio-upgrade. Faremo una mappa di questa routine di movimento, in modo tale che parallelamente ai vari step abbiate anche un esempio pratico. In questo contesto parleremo di movimento e del fare esercizio, ma tenete bene in mente che i tre step di cui parliamo possono essere applicati a qualunque aspetto del vostro benessere, ok? Quindi utilizzate questo modello per qualunque altra cosa, se non vi interessa il movimento nello specifico. Ma torniamo al perché fare esercizio è così importante. Prima di tutto è importante per la nostra salute cognitiva. Non è una cosa molto risaputa, magari la sapete già e non intendo annoiarvi, però saperlo appunto è importante. In primis perché nel nostro corpo, e sto cercando di semplificare usando questa analogia potente, nel suo sistema cardiovascolare il sangue ha quella pompa che chiamiamo cuore, che pompa il sangue e lo mette in circolo, lo aiuta a scorrere e a sciacquar via le tossine presenti. Poi c'è un altro sistema, assai più vasto di quello sanguigno, ed è quello linfatico. Il sistema linfatico si prende cura di trasportare fuori le tossine, trasporta fuori vecchi ormoni che sono diventati ormai veleni, gli ormoni dello stress non più utilizzabili. Ogni eccesso di srotonina, dopamina, testosterone, estrogeno, eccetera. Tutti ormoni di cui forse hai già sentito parlare. Ogni volta che diventano tossine, il sistema linfatico dovrebbe sciacquarli via. Purtroppo però, il nostro sistema linfatico non ha nessuna pompa, e utilizza quindi invece le contrazioni muscolari per massaggiarsi, in modo tale che le tossine vengano rimosse dal nostro corpo. Quando fai yoga, Cecilia, so che sei molto brava con lo yoga. Sappi che le contrazioni muscolari sono uno dei suoi benefici maggiori, oltre a respirare. Chiaro, anche il respiro stimola la nostra pompa linfatica. Comunque, se non ti alleni o ti muovi abbastanza regolarmente, il tuo corpo ristagna, e in pratica è come se si avvelenasse da solo a partire dall'interno. Un'immagine che si può tenere a mente è quella di un corpo che annega nella discarica che si viene a creare attraverso il semplice respirare e vivere. Tutti le creiamo, queste tossine. Per questo muoversi è importante. E muoversi è anche importante per combattere l'ansia, prevenire l'Alzheimer, la demenza, insomma, tutto ciò che comporta un declino a livello cognitivo. E va ribadito, inoltre, di come questo aiuti a sciacquardire le tossine anche dal cervello, facendo circolare il sangue, e inoltre, di come crei le proteine dette da shock termico. Argomento un po' più scientifico, in cui ora non ci addentreremo più di tanto. In parole semplici, basta capire che quando il corpo si riscalda attraverso dell'esercizio vigoroso, vengono create delle proteine da shock termico, che a loro volta aiutano le cellule del nostro cervello a rigenerarsi. Dunque, con l'esercizio si può influenzare direttamente la propria salute cognitiva, ovviamente perché muovendosi e perdendo peso, viene a generarsi più energia. E poi, creando massa muscolare, si crea la possibilità di utilizzare questa energia in modo più efficiente, liberando per di più il sangue dal glucosio potenzialmente tossico. Con una maggiore massa muscolare, si sviluppa infatti un sistema più efficace nel rimuovere tutto ciò che di potenzialmente tossico circola nell'apparato cardiovascolare. Alcuni effetti sono più immediati, altri meno, ma ciò che sto cercando di raffigurarvi è la visione olistica del perché abbiamo bisogno di svariati tipi di movimento. La bellezza di tutto questo sistema di parti sta nel fatto che potrete agire su elementi diversi nel sistema, ma partendo da quelli che sentite più affini, che vi risultano più facili per iniziare, o quelli che vi attraggono di più, che vi entusiasmano di più, qualsiasi essi siano. Si comincia da questo e si creano così delle piccole reazioni a catena. Io sono davvero un'appassionata di queste reazioni, perché se fatte scaturire con costanza, ti portano dritta al raggiungimento dell'obiettivo senza che tu faccia un grande sforzo. Dopo aver fissato l'obiettivo da raggiungere ve ne accorgerete. In sei mesi di tempo sarete migliorati al punto da non riconoscervi quasi.